Sono già cliente da molti anni Land Rover, ho sempre sognato di avere un Defender, ho avuto adesso la possibilità di provare il nuovo Defender Artop, una macchina straordinaria con la quale mi sono trovato veramente molto bene. In questi mesi Defender Artop ha agevolato molto la mia attività, è una macchina molto versatile, soprattutto perché possiamo girare in centro, nell'area C. L'abbiamo utilizzata per fare diversi servizi, anche catering, consegna a domicilio, nel mese di dicembre, questa è un'attività che per noi è molto molto importante e è favolosa la versatilità di questo mezzo. Sicuramente non potrò più fare a meno di questa auto molto possente, la macchina è molto alta, facilissima da caricare, molto comoda da caricare, ma soprattutto con tutti i sistemi di videocamere, sensori di parcheggio, è facilissima da parcheggiare, quindi anche in centro, anche in una città come Milano, dove gli spazi sono abbastanza limitati, mi sono trovato veramente molto molto bene. Ho già parlato con diversi miei colleghi che erano curiosi di sapere come andava questo mezzo, e l'ho consigliata veramente perché è una macchina straordinaria e per un'attività piccola come la nostra è veramente versatile. Defender è un'auto iconica, è sempre stato un sogno, amo tutte le versioni che sono uscite negli anni, soprattutto quelle degli anni 80, quando io ero bambino proprio la sognavo come auto quando ero piccolino. Oggi guidarla è stato un piacere straordinario e è fuori di dubbio che una volta provata non se ne può fare a meno, quindi riconsegnerò questa ma quasi sicuramente toccherà comprarla. Grazie. 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 Grazie.